Eccoci per la prima volta la vittoria di Andrea Cesari, campionato QX1 internazionale, Andrea Cesari, Dillon Zimmerman e Tobias Lenzer perché purtroppo da una verifica tecnica effettuata dai commissari, Tony Sousa Borgia e il team in quad hanno subito una squelifica per un accesso di larghezza del retrotreno dovuta a un cambio di cerchioni e di gomme e prima di gara 2 ha cambiato i cerchioni e ciò ha comportato veramente pochi millimetri cambiando le gomme e ovviamente non si cambiano le gomme, si cambiano gomme e cerchi, il set di cerchi e di gomme montato aveva una larghezza differente rispetto a quanto ho provato prima. Un saluto da Ilfero, quadristi.it